Non vorrei nemmeno più utilizzare questa parola gender, perché secondo me è una macchinazione, ce ne è duemila di volantini che dicono le cose più impensabili. Rimaniamo al documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non si parla di omosessuali orientamenti, la famiglia. Allora, proprio perché è delicata, come dite voi, la sessualità, è importante, dico, un protocollo guida, che fra l'altro non ha funzioni nemmeno positive, non è che è imposto, e comunque è sempre collegato al collegamento con la famiglia. Un protocollo da seguire perché il bambino abbia una crescita equilibrata, nelle diverse fasi essenziali da 0 a 12 anni, per il futuro dei suoi rapporti affettivi. Io dico solo questo, perché questa è la base fondamentale per ciascun individuo, perché possa crescere in equilibrio. Quindi, evitiamo il buio sulla sessualità. Grazie.